Un cordiale saluto dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, dallo studio vi dà il buon pomeriggio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana. In Fipilì si segnala la presenza di pedoni su strada tra Ponte d'Era Este, Ponte d'Era Ovest e Ponsacco in direzione Livorno. Sulla statale Aurelia senso unico alternato a causa di lavori tra Scarlino, Scalo e Stagno. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda lo scambio di carreggiata a causa di lavori tra Monte Regioni e Siena in direzione Siena. Scambio di carreggiata anche sulla statale Trebis-Tiberina a causa di lavori tra Madonnuccia, Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. E chiudiamo con il traffico aereo e il volo Cityjet diretto da Firenze a Londra con partenza prevista alle 16.50 e decollerà alle 17.15. Muoversi in Toscana Info realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!